Terza visita nel giro di nove mesi per il premier Matteo Renzi. Oggi come ad agosto 2015, proteste e fischi, questa volta a manifestare fuori dell'auditorium Renzo Piano, tenuti a distanza da un rigido cordone di uomini delle forze dell'ordine, precari della giustizia, lavoratori dell'ex paolo elettronico e dipendenti del call center a rischio licenziamento. Ad attenderlo, all'interno della struttura leizzata a ridosso del castello cinquecentesco, il presidente della regione Luciano D'Alfonso e il sottosegretario Claudio De Vincenti, l'appuntamento è di quelli che per il governatore entrano di diritto nella storia dell'Abruzzo. Viene posta la firma sul Masterplan, il megapiano da 77 opere pubbliche per un miliardo e mezzo di investimenti, dalle piste ciclabili al sistema dei porti e dei trasporti su gomma, dalla cultura al potenziamento dei bacini sciistici. Ad attenderlo anche sindaci, rappresentanti delle associazioni sindacali e datoriali, tutti in sala per celebrare quello che D'Alfonso ha ricordato sia il primo dei patti per il sud varati dal governo sul quale il premier ha posto la sua firma. Grazie per aver mantenuto l'impegno assunto ad agosto dello scorso anno, ha ricordato D'Alfonso, che ha citato alcuni esempi di interventi che l'Abruzzo attende da anni, come la diga di Chiauci o la fondo Vale Sangro. Il presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, ha fatto appello alla tenacia dell'orgoglio degli abruzzesi, affinché ha detto i tempi vengano rispettati, le persone riacquistino fiducia nelle istituzioni e si sentono parte di una comunità. Ma riconosco nella passione e nella cura del singolo progetto un coinvolgimento che è lo stesso spirito che ha portato me e tanti altri a fare il sindaco e fare l'amministratore. Cioè in altri termini, il tema del master plan, per il quale anch'io è di Nazio Claudio, è uno straordinario strumento perché tiene insieme l'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande che ogni sindaco deve fronteggiare. Dalla macroeconomia al tema dei migranti, passando per i risultati del Jobs Act e le riforme costituzionali. Temi di alto respiro che però alla fine hanno condotto al cuore della giornata i 77 progetti del master plan che da domani dovranno iniziare a prendere corpo. Il premier ha salutato la platea dando appuntamento al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente entro fine agosto e annunciando una prossima visita alla città di Pescara.